...uno studio prosopografico sia sul personale accademico, sui professori in generale, ma più in particolare sui rettori e i presidi di facoltà. L'attenzione all'alta dirigenza amministrativa, che ha un ruolo a partire dagli anni 50 fortissimo, cioè da quando con le politiche di piano il governo accentra a sé per esempio le ripartizioni delle cattedre, perché vengono fatte a livello ministeriale, i direttori generali contano moltissimo, cosa che per l'Ottocento è stata in parte fatta, Guido Melis e così via, per il Novecento per l'età repubblicana ancora manca sostanzialmente, quindi gli intrecci fra dirigenza accademica e dirigenza ministeriale sono un altro dei terreni importanti per capire, su un versante, diciamo così, di storia dell'istituzione e della politica accademica, poi gli studi sul corpo studentesco, che ancora sono studi essenzialmente quantitativi, cammelli e così via, molto aggregati, mentre bisogna poi disaggregare, vedere i flussi sulle sedi e in aree regionali o macro-regionali, legandolo a problemi che sono problemi centrali, come quello della via italiana al diritto allo studio, che sarà la moltiplicazione delle sedi, sostanzialmente almeno fino a un certo punto, e poi i presalari e così via, cioè una storia sociale del corpo studentesco si fa bene a livello di singole sedi, a livello macro sì si capiscono alcune tendenze generali, ma non si ha però la percezione di come le cose siano cambiate, poi lo sapete quanto me è meglio di me, dentro la storia dell'università c'è di tutto, c'è la storia delle discipline in particolare, e anche lì, salvo alcuni settori, prevalentemente quelli umanistici e giuridici, dove qualcosa è stato fatto, meno si è indagato in altri ambiti, tecnico, professionale, scientifico, anche perché lì occorrono competenze particolari, è difficile dall'esterno fare una storia, come dire, sensata delle facoltà di ingegneria, bisogna avere le competenze tecniche per capire le mutazioni nei curricula, per capire le proiezioni sugli ambiti professionali, locali e nazionali e così via, però la storia delle discipline secondo me è un altro campo rilevante, perché fra l'altro si intreccia direttamente con la iniziale rigidità del sistema, materie fondamentali, materie complementarie, i piani di studio bloccati, la fase di disarticolazione di questa rigidità, fine anni Sessanta, anni Ottanta, e poi un progressivo restringimento dei curricula, perché attualmente siamo in una piena fase di neocentralismo curricolare, per cui i piani di studio sono sostanzialmente bloccati, il numero di esami è vincolato all'interno dei dipartimenti, grosso modo l'offerta didattica è contingentata e c'è poca libertà di scelta, questo ha a che fare con la storia delle discipline, ci sono discipline accademiche che appaiono e scompaiono, erano assenti nel quadro rigido, compaiono nel quadro fluido e scompaiono quando di nuovo il quadro si irrigidisce, non è indifferente, su questo le verifiche sono tutte da fare.